La polizia ci ha bloccato con i blindati. Allora, le soluzioni sono due. O blocchiamo l'autogrill finché non ci fanno uscire, o fermiamo e andiamo contro i blindati. Ma visto che noi non siamo guerriglieri, noi non possiamo metterci contro le forze dell'ordine in uno scontro. Non lo vogliamo. Noi stiamo qua finché non ci faranno uscire. E intanto parcheggiamo le macchine all'uscita e andiamo a piedi a bloccare anche l'altro autogrill dall'altra parte.